I panni sporchi consigliano antiche regole, si lavano in casa, non solo quelli delle procure. Ma il vero problema della procura barese non è quello dei panni sporchi lavati in piazza, bensì quello dei panni, dei panni sporchi che una procura non dovrebbe avere e perciò non dovrebbe lavare né in piazza né in casa. Se la PM di Geronimo ha forse ceduto, ha sbagliato nel dichiarare in una lettera aperta quali sono i suoi sentimenti nei confronti di colleghi con i quali ha lavorato gomito a gomito su importanti inchieste fino a qualche giorno fa, l'Associazione Barese dei Magistrati non ha certo fatto di meglio con la sua nota che ha un sapore un po' politico su questa vicenda. Insomma, si ha l'impressione che i panni si siano insozzati e purtroppo non ha più importanza il luogo in cui si debbano lavare o si lavino. E si ha la quasi certezza che nella procura barese ci sia bisogno di una operazione di pulizia radicale. Se le condizioni, l'ambiente, gli equilibri sono quelli denunciati, va bene, sia pure unilateralmente, ma sono quelli denunciati dalla di Geronimo, beh, c'è da essere preoccupati. Al punto che ci sorprende che ci siano una trentina di aspiranti pronti a prendere il posto non a caso lasciato libero da un procuratore moderato ed equilibrato come laudati. Non sanno in che ginebraio vanno a cacciarsi. Probabilmente in Italia ci sono procure peggiori e ancora più sature di veleni, ma quella di Bari andrebbe risanata subito per evitare che possa saltare il coperchio travolgendo e inquinando tutto, soprattutto quello che comunque di buono si fa e grazie al quale i cittadini continuano a nutrire ancora qualche speranza nonostante siano ormai perdendo la pazienza.